Mi rilassa molto curare il mio terrazzo insieme a Federico, soprattutto se le cose le fa lui. Sono però necessari gli attrezzi giusti, come Easy Prune, che rivoluziona sicuramente l'idea di taglio. Fede, invece di concentrarti sui rametti, perché non tagli quelle foglie gialle della palma, che sono brutto da vedere. Vero, Tobi? Si tratta di una cesoia a taglio assistito, dotata di un sensore che rileva la forza necessaria a tagliare il ramo e si aziona automaticamente, in modo da limitare la fatica di chi lo utilizza. Federico, visto che anche il salecetto ortuoso ha dei rami da potare, guarda questo. In questo modo, curare le piante diventa semplice. Lo sforzo è ridotto anche grazie all'impugnatura ergonomica. Risultato? Un taglio netto e pulito. L'ideale per piante che hanno lo stelo della dimensione di un dito, come le rose, l'alloro, i girasoli e i piccoli rami in genere. Visto che oggi ti vedo in buona, mi dai una regolata anche al bambù? Grazie. Non ti facevo così abile, sei stato bravo. Beh, così è semplice. Potrei riuscirci anch'io? Forse. 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 Grazie a tutti.